Posso chiederle una cosa? Certo. Quante volte mi ha colpito? Una. Anzi, scusami, io non volevo farti male, è che ho perso il controllo. Ah, io volevo farle male. Ho sentito. Sei molto forte. Perché non mi ha colpito ancora, eh? Perché non l'ha fatto? Io ero finito. Io le ho dato noia da quando è arrivato. Senta, ma ha paura per caso? Anche se te le avessi date, non avrei proprio risolto niente. Sarà vero, ma io non riesco a capirla. Denham, ci hai provato a capirmi. Ma come no? Ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Lei ha sbagliato con Pozzi? Sì. Dal suo punto di vista e alla sua età, sì. E le ragazze avevano ragione circa le chiacchi. Dal loro punto di vista, sì. E quale altro punto di vista c'è? Questo un giorno lo scoprirai da te, Denham. Quest'altro anno vorresti venire qui a insegnare ai ragazzi un po' di boxe? Eh? Se ti va potrei parlarne al direttore. Naturalmente avresti un piccolo salario. Ma chi? Io? Io ho un insegnante. Beh, è importante che i giovani imparino a difendersi, no? Senta, ma perché lei fa questo? Auguri per il tuo incarico. Bene.